A tutti il più cordiale buongiorno e benvenuti al penultimo appuntamento con un serremo da Fivri. Ieri i giornalisti erano un po' come un programma di cronaca nera in attesa del cadavere di cui raccontare e su cui banchettare per settimane ed è stato così per quanto concerne le eliminazioni che sono state delle eliminazioni eccellenti. Ron, Gigi D'Alessio, Albano e Giussi Ferreri. Eliminazioni che ovviamente hanno lasciato la loro serie di polemiche ma sulle quali io getterei la mia personale acqua sul fuoco. Per quanto riguarda Albano, evidentemente è un brano ormai un po' di stampo fin troppo classico per i gusti attuali. Certo, nessuno se l'aspettava in zona rossa ieri sera perché Albano è perfettamente nel target di Rai 1, perfettamente nel target di Sanremo. Aveva ricevuto anche degli applausi dopo la prima pessima esibizione in cui era stato alquanto incerto e ce lo aspettavamo tra i primi 16. Invece non è stato così. Di chi è la colpa? Chi ha affossato Albano? Se è vero come è vero che probabilmente il pubblico lo aveva tra i suoi preferiti, il pubblico mi riferisco al pubblico da casa. Chi lo sa? Lo scopriremo ovviamente domani quando saranno pubblicati tutti i pdf. E ha sorpreso ovviamente anche l'eliminazione di Giussi Ferreri. Giussi Ferreri che ha avuto gli occhi della tigre sia nella serata di ripescaggio sia nella serata di ieri. In entrambi i casi ha dovuto eseguire il suo brano ben dopo la mezzanotte. Ovviamente non è questo il problema. Alla fine se è un brano non ha convinto il pubblico sanremese, non ha convinto le giurie, è inevitabile che non potesse sperare realmente di arrivare in finale. Penso che poi all'atto del ripescaggio sia stata la quarta dei sei che si sono poi giocati il posto nella serata di ieri. Perché non penso che sia scaturito così all'improvviso un rientro e una pronta eliminazione dalla gara. Come non penso sia stata casuale l'eliminazione di Ron. Anzi probabilmente il brano di Ron è nettamente peggiore rispetto a quello di Giussi Ferreri che l'ho già detto ieri sera. È un brano che resta in testa, è un brano che piace, bisogna ascoltarlo, si può anche ascoltare il loop che non ci si stanca e io veramente comprendo ben più l'eliminazione di Ron assolutamente fuori forma che l'eliminazione di Giussi Ferreri. Poi staremo a vedere chi è stato il colpevole, chi ha il coltello in mano e insanguinato della povera Giussi Ferreri. E poi per quanto riguarda invece l'eliminazione di Gigi D'Alessio anche questa è un'eliminazione a sorpresa che non ha mancato di creare qualche polemica non tanto per Gigi D'Alessio in sé che tra l'altro la cui eliminazione è stata tra l'altro accolta da qualche timido applauso. Non so se era tanto rivolto alla sua eliminazione o al passaggio del turno di Fiorella Mannoia che è stata l'ultima finalista ad essere annunciata. Questo è soltanto un pensiero del pubblico dell'Ariston che si sa che è difficile da decifrare per quanto ci riguarda. Quindi veramente sono state quattro eliminazioni ripeto eccellenti che però hanno tutte dei motivi di fondo e per quanto riguarda Gigi D'Alessio probabilmente non ha convinto non tanto il tema della sua canzone che ovviamente è la canzone di un figlio che dedica alla madre che non c'è più come nel suo caso comunque in generale di un parente nei confronti di un caro estinto. Probabilmente non ha convinto la sua interpretazione a tratti fin troppo incerta e dettata un po' troppo dall'emozione. su chi dobbiamo mettere la croce, chi non meritava la finale e secondo me non l'avrebbe mai meritata nella vita Alessio Bernabei che veramente ha sbagliato ogni interpretazione però è lì tra i primi 16 e mi viene da dire che essendo che chi vince ha sempre ragione ragazzi allora è cantato bene, allora siamo noi che non capiamo il... ecco Clementino Clementino che devo dire il suo brano mi è piaciuto per quanto riguarda soprattutto il ritornello poi un po' meno si può condividere il rap però il ritornello ragazzi ascoltatevelo bene perché come lo canta lui su quel palco non ce n'è stato per nessuno. Per quanto riguarda appunto Alessio Bernabei il plagio di se una regola c'è mi manca solo quella boy band russa sul palco e avremmo fatto scopa. Ripeto non me la sento però tanto di buttare la croce su di loro. È successo, i verdetti vanno accettati per come sono per quanto non li possiamo condividere assolutamente e che altro raggiungere se non... vabbè speriamo che Alessio Bernabei finisca sedicesimo vabbè dai l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto di nuovo Clementino per annunciare l'ultima parte di questa mia disamina che riguarda ovviamente il vincitore della categoria Giovani Lele. Probabilmente il brano più interessante dei 4 che sono arrivati in finale in una finale di canzoni secondo me abbastanza anonime. Quelle che secondo me avrebbero meritato di stare lì e di giocarsi un posto per la vittoria sarebbero state la canzone di Marianne Mirage che è stata eliminata la prima sera e tornando indietro nel tempo una menzione d'onore per la canzone dei La Rua che sono stati eliminati ai tempi di Sara Sanremo e la cui canzone è stata utilizzata come sigla del Dopo Festival. Personalmente avrebbero portato anche quella ventata d'allegria che sennò sembra che questi giovani si battono il petto e si crocifiggono ogni volta quando devono portare la loro canzone sul palco di Sanremo e credo che questo non renda troppo loro onore. Quindi sarebbe stato più bello una finale tra La Rua e Marianne Mirage e forse avere tra i primi 8 anche Chiara Grispo. Anche il suo era un brano abbastanza carino. Poi poteva arrivare chiunque altro. Purtroppo non è stato così. Vabbè dai domani commenteremo il vincitore se ha avuto ragione oppure no. Noi ci ritroviamo domani. Saluto anche da Clementino.